allora buona domenica a tutti vi do qualche consiglio soprattutto per i nuovi amici aspetto aspetto che il collegamento sia a posto e vi do un paio di notizie e appunto dei consigli soprattutto per i nuovi amici visto che sono cose che ho detto già alcune volte ma l'ultima volta diversi mesi fa e quindi lo ribadisco appunto soprattutto per i nuovi amici beh intanto vi confermo che purtroppo le notizie sono di ulteriori aumenti che stanno arrivando e sono talmente ufficiali che è la stessa autorità per l'energia elettrica e il gas che ha mandato una comunicazione al Parlamento dicendo attenzione stanno arrivando una serie di misure che cumulate tutte assieme faranno aumentare la bolletta elettrica per 22 milioni di italiani quindi non lo dico io Gianni Girotto ma lo dice addirittura l'autorità per l'energia elettrica e il gas. In buona sostanza abbiamo un come si direbbe un combinato disposto abbiamo più misure che si stanno cumulando assieme vengono incentivate le industrie che consumano moltissima energia e il loro incentivo viene caricato sulla bolletta di tutti gli altri e entrerà a vigore col primo gennaio 2018 la riforma della tariffa di cui ho parlato già molte volte per cui eventualmente trovate i miei video precedenti quindi in buona sostanza con la riforma della tariffa chi consuma poco paga di più chi consuma poco paga di più e stanno aumentando i certificati bianchi che li trovate su internet sono un modo per incentivare interventi di efficientamento energetico ma anche in questo caso il costo dell'incentivo pubblico viene spalmato sulle bollette di tutti quindi queste tre misure di per sé ognuna di queste va a aumentare il costo in bolletta il risultato è che appunto le prossime bollette dal 2018 saranno più care e in più abbiamo un ulteriore elemento di pericolo che non è italiano ma deriva dalla Francia dal fatto che metterà in manutenzione straordinaria 25 centrali nucleari e quindi quel 5-6 per cento di elettricità che importiamo dalla Francia a prezzi normalmente bassi non lo potremo più importare come è successo l'anno scorso in inverno e se questo inverno dovesse essere più rigido di quello dell'anno passato l'anno passato per un pelo non abbiamo dovuto riattivare due centrali a carbone quest'anno ribadisco se l'inverno fosse più rigido potremmo essere assolutamente costretti a riattivare due centrali a carbone e ugualmente la bolletta potrebbe risentirne e aumentare di prezzo perché ci mancherebbe questa fornitura francese ora queste sono le brutte notizie le ripeterò anche nelle prossime settimane perché sono estremamente gravi quello di cui volevo avvisare i nuovi amici è che la migliore opportunità per risparmiare sui costi in bolletta è naturalmente quella di efficientare l'abitazione quindi continuare a approfittare della detrazione fiscale del 65 per cento quella per le finestre dovrebbe abbassarsi al 50 per cento l'anno prossimo aspettiamo la legge di stabilità per vedere cosa effettivamente succederà comunque il primo intervento è sempre quello di efficientare l'abitazione e ribadisco che tutta una serie di informazioni in questo senso l'ho messa nel mio blog personale tracce tra cui ho messo anche la misura che potete fare a costo assolutamente zero che è quella di cambiare fornitore di elettricità e passare a elettricità rinnovabile questo perché dico che va a implementare sui costi della bolletta non vi fa risparmiare direttamente se non qualche centesimo a kilowattora ma si parla proprio di cifre minime perché l'elettricità costa praticamente uguale sia è che l'acquistate da un fornitore classico che quindi della porta a casa prodotta dalle centrali a gas o a carbone sia che l'acquistate invece da un fornitore che ve la porta da fonti rinnovabili però cosa succede che si aumenta la richiesta la domanda di elettricità rinnovabile vengono installate ulteriori fonti di energia rinnovabile e il prezzo generale cala perché lo ribadisco dal 2010 ad oggi il prezzo si è quasi dimezzato il prezzo all'ingrosso perché le fonti rinnovabili producono a energia a un prezzo più basso rispetto a quelle a fonti fossili quindi aumentare la domanda e quindi l'installazione di nuove centrali a fonti rinnovabili comunque nel medio lungo periodo farà abbassare la bolletta elettrica ribadisco nel 2010 il prezzo unico nazionale era 75 euro a megawattora adesso siamo sui 45 50 euro a megawattora la bolletta purtroppo è rimasta identica perché tasse e oneri sono saliti notevolmente gli oneri per il fotovoltaico comunque hanno cominciato da quest'anno a scendere per cui se qualcuno sa dovesse prendere ancora col fotovoltaico fategli sapere che gli oneri stanno scendendo e come ho sempre detto se si guarda nella bilancia benefici e sacrifici la bilancia pende moltissimo a favore dei benefici ci sono studi di società terze che lo certificano ampiamente e nessuno le ha mai confutati questi studi si parla di 30 miliardi di beneficio da qui al 2030 per aver incentivato il fotovoltaico negli anni passati quindi la prima misura che volevo consigliarvi è quella di cambiare fornitore di elettricità e possibilmente diventare voi stessi voi stessi soci nel mio blog tracce vi faccio vedere ho messo parecchie informazioni al supporto ve lo faccio vedere un attimo qui ci sono tutta una serie di gruppi di acquisto che vanno dall'automobile elettrica automobili a metano le assicurazioni automobilistiche tutto ciò che riguarda l'efficientamento energetico della casa ci sono i gruppi di acquisto solidale ci sono le assicurazioni etiche e ci sono appunto anche le compagnie le cooperative cooperative rinnovabili cooperative di cui io sono socio di due di queste e qui ne ho elencate diverse e il mio consiglio è quello di diventare soci perché cambia completamente la modalità di approccio e di rapporto non siete più dei numeri uno fra i centomila cinquecentomila milioni di clienti delle grandi società ma siete socio di una cooperativa ad azionariato popolare con voto capitario voto capitario quindi significa che avete lo stesso identico diritto di qualsiasi altro socio e di alcune di queste cooperative che io consiglio per essere soci bastano 50 euro quindi con 50 euro spesi una volta sola si è soci per tutta la vita e si ha ripeto in assemblea dei soci gli stessi identici diritti di qualsiasi altro non importa quante quote eventualmente l'altro abbia acquistato perché il voto capitario significa una testa un voto a prescindere dalla quota posseduta della cooperativa stessa ecco in questa maniera voi fate aumentare velocemente la velocità di transizione che non è in dubbio perché la transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili non è in dubbio quello che è in dubbio è solo la velocità con cui avverrà ecco se voi la se voi diventate soci di queste cooperative o comunque clienti di società che vi portano a casa elettricità da fonte rinnovabile fate aumentare la velocità di transizione in più in più sarete tra i primi ad approfittare delle nuove tecnologie come per esempio la demand response la gestione della domanda cioè il fatto che il vostro fornitore di elettricità sarà disponibile a farvi uno sconto ulteriore se voi gli permettete di modulare la potenza che vi viene erogata l'energia che vi viene erogata cioè siccome la rete ha bisogno ogni tanto di essere aiutata se voi consentite al vostro fornitore in nome e per conto vostro di agevolarvi di scusate di abbassare in determinati momenti il consumo della vostra abitazione della vostra del vostro negozio della vostra fabbrica questo vi da vi darà diritto a ulteriori sconti questo in buona sostanza è quello che promette la gestione della domanda o in inglese demand response che appunto in alcuni paesi già viene assolutamente utilizzata la faremo anche da noi è solo una questione di tempo e ribadisco chi utilizzerà queste cooperative che sono molto attente a queste tecnologie ne beneficerà assolutamente per primo così come a ulteriori vantaggi come come deriveranno come deriveranno per esempio dall'utilizzo della tecnologia block chain che è una tecnologia informatica che ha svariati ambiti di applicazione uno di questi sarà che ci si potrà scambiare l'energia elettrica così come adesso ci si scambiano dei favori o dei contanti ci si potrà scambiare energia elettrica per cui se io ho il fotovoltaico sul tetto anziché darlo alla rete elettrica che adesso me lo remunera poco la mia eventuale eccedenza posso darlo vicino di casa e farmelo pagare un po di più magari vicino di casa che ha più bisogno di corrente quindi diventare soci riprendersi in mano questi servizi essenziali queste fonti di energia essenziali è un passo verso una vera e propria democrazia che da energetica diventa una democrazia sociale più a tutto tondo e naturalmente il consiglio di diventare soci di queste cooperative vale anche per le assicurazioni auto e per la banca è tutta un'altra cosa anziché essere cliente essere soci questo lo dico soprattutto per i nuovi amici quelli vecchi sanno che ne parlo continuamente quindi ai nuovi amici dico che trovate moltissimo materiale sul mio blog tracce sul mio sul mio profilo facebook ufficiale trovate molto materiale per quanto riguarda appunto le assicurazioni le banche e le banche etiche nella sezione consumo critico del mio blog tracce ho radunato tutta questa serie di informazioni quindi buon risparmio a tutti trovate molte altre consigli di risparmio appunto nella mia sezione risparmio sempre nel mio blog tracce lì ho messo molte altre notizie che vi possono aiutare a farvi risparmiare negli acquisti di tutti i giorni quindi buona domenica a tutti e grazie